Federico Melchiorri giura amore al Pescara. L'attaccante di Macerata ha declinato l'offerta del Palermo dicendo a Chiarenote di voler restare il rival Adriatico fino al termine della stagione. Il bomber biancazzuro crede fortemente nel progetto della società e spera di continuare a segnare così come è accaduto nel girone di andata. E al suo fianco ci sarà Riccardo Maniero che resterà a disposizione di Mister Baroni nonostante le richieste e sempre in attesa di firmare il prolungamento del contratto. Il giocatore colpito da un grave lutto per la scomparsa del nonno, ieri ha lasciato il ritiro di Roma per partecipare ai funerali. Sul mercato il Pescara vuole essere protagonista soprattutto per sfoltire l'organico. Ormai è chiaro che Biarrason lascerà l'Abruzzo, il centrocampista islandese ai stimatori nella massima serie e soprattutto ad Empoli. La società toscana aveva messo gli occhi anche sul lebanese Memushai ma la risposta del Pescara è stata negativa. La società biancazzurra ha messo sulla lista dei partenti anche Matti Nilsen che ha però un contratto fino al 2016. Il biondo centrocampista danese fuori da fine ottobre per un infortunio e questo non facilita la sua partenza. Il direttore generale Giorgio Repetto in queste ore lavora anche sulle cessioni di Fiorillo, Boldor, Pogba, Milicevic e Soe. In entrata si punta su un terzino con il giuliese dell'Atalanta, Cristiano Delgrosso, in pole position. Se partiranno Biarrason e Nilsen si punterà a reperire anche un centrocampista. Il primo nome è quello di Crimi del Latina. Intanto la squadra prosegue il ritiro nel centro sportivo di Casal Palocco nella capitale. Al ritmo di due sedute giornaliere, Mister Baroni sta facendo svolgere ai suoi ragazzi una sorta di nuova preparazione che poi proseguirà la prossima settimana in Abruzzo. A Lanciano la società rossonera non ha esigenze particolari di mercato. L'organico resterà in larga parte quello attuale. Il tecnico Roberto Daversa non ha fatto richieste particolari al DS Luca Leone che però cercherà di cedere quei due o tre atleti che hanno giocato pochissimo fino ad oggi. Il riferimento in particolare al portiere Branescu. Per il resto si punterà al recupero del bomber Cerri che prima del grave infortunio era andato a segno per quattro volte in nuove gare con una media di quasi un gol ogni 180 minuti. Nel ritiro di Corato proseguono il lavoro di recupero fisico oltre a Cerri anche paghera a Turchia e da Menta.